Un convegno di battito si è svolto a Pineto presso Villa Figliani per affrontare e riportare in primo piano i problemi legati all'ambiente, più in particolare quello delle colline, sempre più minacciate dalla cementificazione, come sostiene al nostro microfono il noto urbanista Vezio De Lucia. Sì, purtroppo la situazione italiana da questo punto di vista peggiora sempre di più, è doloroso dirlo, però è così, non si riesce a bloccare la cementificazione che più delle volte è inutile, non serve a soddisfare bisogni effettivi della collettività, serve solo a favorire la rendita e la speculazione fondiaria che non si accontentano mai. E nonostante la crisi che colpisce gran parte dell'economia e della situazione nazionale, la spinta all'espansione continua, al consumo del suolo non trova tranquillità, non trova pace, prosegue in tutte le direzioni. Mi pare molto opportuna l'iniziativa di Italia Nostra e delle altre associazioni a Pineto per la tutela delle colline, un patrimonio di importanza enorme, è la prima pausa nella squallida conurbazione Chieti-Pescara che si trova andando a nord lungo l'Adriatico, hanno assolutamente salvaguardato questo tesoro ormai prezioso che non può essere messo più a rischio. L'incontro è stato organizzato dall'Associazione Ambientalista d'Italia Nostra, sezione Terre del Cerrano, in collaborazione con WWF e Legambiente. Numerosi gli interventi e tra questi anche il sindaco di Camigliano in provincia di Caserta che fa parte di uno dei comuni virtuosi. Bisogna anche dire che questo non è anti-economico come lo si vuol far credere, tutti i telegiornali parlano di crescita oggi, non c'è un telegiornale che non apre con il senso della crescita, ma noi non possiamo crescere all'infinito perché altrimenti svendiamo pezzi del territorio e dobbiamo forse legare la crescita al benessere delle persone. Aumentare la popolazione di una comunità significa fornire ulteriori servizi, significa impegnare altre risorse economiche, quindi il comune andrà in difficoltà se crescerà all'infinito. Proprio per questo è una scelta anche economicamente vantaggiosa per l'ente. Nel corso dell'incontro è stato proiettato anche un filmato curato dalla M.I. Video di Atri per richiamare l'attenzione su un problema, un problema che più delle volte tende ad essere sottovalutato. Le colline, elemento chiave di un paesaggio ma anche punto di forza e in questo caso di debolezza perché subiscono le pressioni dello sviluppo urbanistico della città, attaccate da quello che si chiama cemento che ormai è presente dappertutto, ma l'autore di questo libro nero sull'ambiente, così lo chiamiamo, è sempre lo stesso, l'uomo con il suo modo di fare. Grazie a tutti.